Ieri pomeriggio Ieri pomeriggio Mameli e Sofia Marcaccini Per il ballo sono entrati Giussi Romaldi, Miguel Chavez, Daniele Nocchi, Arianna Forte, Marco Alimenti, Mattias Kinko e Moukli. Alla puntata in onda sabato 17 novembre di Amici 18 sarà ospite Irama mentre dietro la cattedra prenderanno posto i già annunciati Alessandro Celentano, Timor Stephens, Veronica Pepperini, Rudy Zerbi, Alex Britti e Stesh. Dal lunedì 20 novembre su Real Time Canale Trenton inizieranno le lezioni quotidiane, 8 ore al giorno di studio, prove, fatica, soddisfazioni, delusioni e forti emozioni con l'obiettivo di dimostrare in queste prime 5 settimane le loro capacità, la loro tempra e il loro talento per conquistare un banco nella scuola. Grazie a tutti.